L'Unione fa la forza e sono tempi in cui è necessario dialogare e mettersi insieme, forse solo per uno scambio utile di informazioni e di conoscenze. Le cooperative costituiscono un valore aggiunto per i nostri territori, hanno una storia molto forte e soprattutto positiva, pertanto rimanere da soli già di per sé non è mai qualcosa che rende. Mi sembra che possano aggiungere e ottenere maggiore economia. Le cooperative sono presenti nei settori più disparati della vita cittadina, anche a Verbagna, dai rifiuti fino ad arrivare all'impresa sociale. È un utile modo di abbinare creatività, conoscenza e anche lavoro per magari chi è in difficoltà. Una valutazione molto positiva, non solo dal punto di vista ideologico, ma come modo di lavorare e anche patrimonio di conoscenze che in questi anni si è strutturato. Nella cooperazione si mettono insieme le esperienze e si ha un'anima anche sociale, quindi in questo periodo in cui mancano anche i valori può essere un utile elemento. Dopodiché la cooperazione fa anche reddito, fa economia, dà lavoro e quindi tutto ciò che è a sostegno dell'occupazione è di per sé positivo. I migliori auguri e anche i complimenti, proprio perché viviamo in questi tempi un po' disaggregati, mettersi insieme, trovare gli accordi dà fiducia e speranza per il futuro. Grazie a tutti.